E' un progetto che ha 5.500 presenti in un'estate, 40 attivi trasportivi in questo campus universitario che è veramente un impianto molto molto bello. Il posto del genere come campus universitario è abbastanza unico nel settore. Qui facciamo proprio 14 settimane di attività sportiva con tutti i bambini. Bello, bello. La settembre ha portato tutti i miei bimbi. Sì, sì. Se hanno almeno 5 anni, no. Speriamo che tu rimanga. 13 anni ma vale per dire. Va bene. Prego, passate pure. Grazie. Poi andremo ritornando la stessa immagine, lo stesso calore che avranno tutte le domeniche. Ciao ragazzi! Eccoli qua, sul palco con la maglia e il ballo è un piacere. Ciao, 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 pulite, manuele, sono qui con noi. Allora, attenzione che adesso abbiamo un valore dentro il tremolo, scavonia, seduti, 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 seduti. Eccolo, un bel violatore, un bel rimasto, un bel rimasto. Eccolo, un bel rimasto, un bel rimasto, un bel rimasto! Sì, vanno tutti, vanno tutti, vanno tutti, vanno tutti! Ma qui, le bambini si fa se fa. Sì, vanno tutti. Ma qui, le bambini si fa? e con la presentazione di Gerasa in mezzo alla gioia tua, i nostri bambini che ci accompagnano tutta estate, saranno circa 3.000, adesso siamo arrivati al minuto 200, siamo partiti i primi di giro, si sono stati salutati, sedetevi, adesso poi diamo parola a Felice Emanuele, allora giù tutti, li abbiamo divisi Gianni e Luca che anche noi facciamo la sfida con i colori della nostra città, della nostra squadra e dunque volevamo farvi una mini curva per accogliervi, ragazzi sulle mani che facciamo una super foto, fatene le mani come se fessimo allo stadio, applauso, l'onorevole di giocattore che sono qua qua non c'è solo, felice e l'abbiuola della Mozzolini ma qua sul palco di Lorenzo Campos abbiamo il presidente della guerra, Medio Scala, il direttore generale Loretto Iotti e Andrea Rossi, tutti giù Luca Tarra e dunque davvero anche la società è presente in questo fantastico momento, vi potete sedere ragazzi, vi potete sedere, facciatemi bene, ok, ok, allora siccome, siccome, risò ok, facciamo ripartire, allora siccome molti di voi, anzi tutti, tutti, non forse non conoscete la storia di questa gloriosa società che è il Parma Calcio, abbiamo deciso, adesso se ti puoi leggermente spostare un recente revisore, abbiamo deciso di farvi vedere un breve riassunto di tutte le vittorie europee che il Parma Calcio ha guadagnato in questi anni, a partire dal 1990 quando per la prima volta Porter, in panchina, Medio Scala e in campo, Lorenzo Minotti, il Parma ha guadagnato per la prima volta nella sua storia la Serie A e qui mi taccio e andiamo con le immagini.